Ciao a tutti! Oggi vedremo come realizzare queste due ciotoline in DAS. Ecco il materiale che ci occorre del DAS, una base di legno, ciotole di forme e dimensioni diverse. Poi ci servirà anche un matterello e anche un taglierino. Prendiamo un pezzo di DAS e formiamo una pallina. Cerchiamo di lavorarla abbastanza bene. Bisogna anche avere cura di richiudere bene il DAS perché secca facilmente. Formiamo una pallina abbastanza omogenea. Cerchiamo di eliminare le crepe che si formano all'interno. Cominciamo a lavorarla con il matterello, stendendola cercando di formare, di darle una forma circolare. Quando avremo ottenuto uno spessore di questo tipo, prenderemo una delle ciotole e andremo a posizionarla sulla nostra base di DAS. Con il taglierino poi incideremo il contorno della ciotola, in questo modo. eliminiamo la parte in eccesso, solleviamo la ciotola e con molta cura solleveremo la base che abbiamo ritagliato. A questo punto prendiamo un po' di acqua, ci bagniamo le dita e andiamo a livellare tutte le increspature che sono rimaste. Una volta ottenuta una forma abbastanza liscia e levigata, la posizioniamo sulla ciotola. La facciamo scendere verso il basso e andiamo a livellare eventuali onde che si formeranno con il DAS in eccesso. Spingiamo con le dita verso l'esterno, vedete in questo modo, per far fuoriuscire l'aria che è rimasta tra il DAS e la ciotola. E questo è quello che otterremo. Mettiamo da parte questo lavoro per lasciarlo asciugare e con un'altra parte di DAS andiamo a formare e a stendere un'altra base per formare un'altra ciotola. Bene, lo spessore sarà sempre questo, come potete vedere. Questa volta utilizzeremo una ciotola di forma quadrata. Questa volta però proviamo a lasciare un bordo un pochino più ampio. Ok, con il taglierino possiamo anche eliminare un po' della parte in eccesso. Una volta terminate, lasciamo asciugare i due lavori per almeno 24 ore. Una volta asciugati, li toglieremo dai loro contenitori, facendo attenzione perché potrebbero essere un pochino attaccati. Come vedete i bordi saranno un po' da lavorare perché molto irregolari. Utilizzeremo della carta vetrata e andremo con delicatezza a levigare tutta la parte irregolare. Come vedete ora il bordo risulta molto più levigato. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro contenitore. Quando le due ciotole saranno pronte e levigate, cominceremo a colorarle. Come potete vedere non saranno perfettamente lisce, ma conserveranno delle loro irregolarità e questo le renderà ovviamente uniche. e cominciamo a colorare la ciotola rotonda utilizzando del bianco, del dorato e un po' di rosso. Utilizzo per questo lavoro dei colori acrilici. Il DAS li assorbe molto bene, però alla fine darò anche uno strato di vernice lucida. Allora, separiamo i colori in modo da poterli unire un po' per volta e dosarli in maniera opportuna. Coloriamo con il colore così ottenuto soltanto la parte interna della ciotola. Prendiamo poi il dorato e andiamo a colorare il bordo della ciotola con un pennello abbastanza sottile. Suggerisco quelli a spatola. A questo punto andiamo a colorare anche l'esterno della ciotola. Passiamo quindi a colorare la ciotola quadrata utilizzando il verde come base. un po' di bianco e metteremo anche una puntina di nero. ed ecco il risultato che otterremo dopo aver dato anche il dorato esternamente alle due ciotole. A questo punto, con una penna di colore oro, andremo a fare una scritta nel mezzo della ciotola. Io ho adattato questo lavoro con i bambini alla festa della mamma e quindi abbiamo scritto semplicemente Love you, Mom in inglese. Ma ovviamente si può scrivere quello che si vuole. Vedete i riflessi poi dell'oro sono molto belli. Nell'altra ciotola invece abbiamo scritto semplicemente Love. Andiamo quindi a dare uno strato di vernice lucida sia nella parte interna delle ciotole che esternamente, ovviamente facendo molta attenzione soprattutto a non andare con la vernice sulla scritta oro perché il colore tenderebbe a sciogliersi facilmente. Ed ecco qui le nostre due ciotole in Daz, verniciate con colori acrilici e decorate semplicemente con una penna a colore oro. Come vedete anche la vernice lucida non è molto evidente, ma serve giusto per dare un tocco di luce. Come sempre lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e al prossimo tutorial! Grazie a tutti!